Perché un tributo al Kenya? Perché sono tornata da un'esperienza di viaggio dove ho trascorso sei mesi in Kenya, ho condiviso passioni, ideali, cultura con un popolo che mi è rimasto nel cuore, visto che loro non sono potuti venire fisicamente qua, l'ho fatto io. Ecco, ma quale messaggio viene sviluppato attraverso queste opere? Allora, innanzitutto il concetto di pole pole, ovvero piano piano, questa mostra è ricca di piccoli dettagli che devono essere visti con una marcia corta, quindi rallentando il passo per soffermarsi su un po' quelle che sono le sfumature della vita in un viaggio che mi piacerebbe potesse essere un incontro tra culture diverse per poter si arricchire a vicenda. Quindi il tutto parte dalla concezione del tempo che si vive e si respira in Kenya? Sì, è un tempo molto più rallentato, non dato, come magari tanti pensano, soltanto dalla voglia di ozziare e di prendere la vita con calma, ma dalle condizioni che vivono e da un diverso spirito con cui la mattina di buon'ora si alzano quasi tutte le 5 di mattina, si mettono in moto, camminano mari per ore per arrivare in città e quindi è il tempo un po' scandito da quelle che sono le abitudini della gente. Diverse le tecniche, la base, la fotografia. Sì, ho preso un po' ispirazione da quella che è stata la mia formazione, ho studiato per tanti anni arte, quindi mi è stata abbastanza facile trarre ispirazione da questo. Poi anche le opere che ho visto in Kenya, le varie sculture che ho avuto modo di osservare mi hanno aiutato sicuramente. Perché tutto inizia con un animale, un asino? Allora, ci sono diverse ragioni. Innanzitutto è un po' l'animale che mi ha accompagnato in tutti i miei viaggi, l'ho appunto trovato dietro a casa mia nel momento in cui sono tornata, mi ha accompagnato in India, l'ho trovato tra le varie mancarelle dei mercatini, mi ha accompagnato in Nepal, sulle vette dell'Himalaya, dove appunto ero impegnato a trasportare le varie stoviglie per la gente dei villaggi, e l'ho trovato in Kenya, su un'isola senza luce né acqua, dove era ancora l'unico strumento per spostarsi, l'unico mezzo di trasporto. Anche un po' per stimolare quella che è la comprensione reciproca, la collaborazione che può portare alla nascita di un incontro possibile con la popolazione locale e il turista che va a visitare il Kenya.